Inquirenti abbottonati in queste ore dopo la prima deflagrazione sull'inchiesta della Guardia di Finanza in merito al caso delle aste giudiziarie, a finire in manetta infatti un noto avvocato di Ragusa, Giovanni Calcaterra, 45 anni, coinvolto nell'indagine che sta facendo tremare gli studi professionali di mezza provincia. Il professionista ragusano è intanto sotto processo a Malta per frode fiscali al riciclaggio e per reati commessi nell'Isola dei Cavalieri. Sono i primi sviluppi delle ultime perquisizioni domiciliari in alcuni studi associati da parte delle fiamme gialle in sinergia con la squadra mobile del capoluogo. Nel mirino è finito così anche lo studio dell'avvocato Calcaterra, ironia della sorte, ubicato quasi di fronte alla palazzina del comando della Guardia di Finanza. L'inchiesta ha aperto così una pista che conduce anche a Malta dove, in materia di reati e certezza della pena, non è certo come l'Italia, chi sgarra infatti finisce subito in cella. Naturalmente la vicenda di quest'arresto viene eseguita con attenzione dalla stessa Guardia di Finanza e anche in stretta collaborazione con gli inquirenti maltesi. Un caso, come si ricorderà quello delle aste, saltato fuori dopo la morta del povero Giovanni Guarascia Vittoria e che ha permesso di scoperchiare un pentolone di illeciti e illegalità che ad oggi, dopo l'arresto del professionista ragusano, segnano sicuramente il primo importante e clamoroso tassello.